Oggi è lunedì 13 aprile 2015 e a voi tutti giunga il nostro più cordiale saluto e l'augurio di una buona mattinata. Sono le 7.30 per chi ci segue in diretto ovviamente e come tutte le mattine dal lunedì al sabato siamo qui per leggere i giornali che oggi hanno come ogni lunedì l'inserto dedicato allo sport con il calcio ovviamente in primo piano ma non solo il calcio. Andiamo a vedere adesso il santo del giorno oggi è San Martino I Papa, il sole è sorto alle 6.30 e tramonterà alle 19.48. Vediamo il tempo con questo scatto fotografico dalla webcam del nostro osservatorio meteorologico di Fano TV che ci mostra una città la città di Fano ovviamente dove ha la nostra sede e dove appunto è stata installata questa webcam una città che si sveglia questa mattina con pochissime nuvole appena appena ma tutte velature più che altro e poi ovviamente il cielo sereno. La temperatura è di 8 gradi e mezzo. Va detto che a proposito della temperatura come vedremo tra un istante la temperatura sarà ulteriormente in aumento, aumenterà di giorno in giorno avremo nel corso del pomeriggio anche temperature superiori ai 20 gradi quindi arriverà caldo chi può, chi può permetterselo sicuramente alla possibilità della prima tintarella di sole in spiaggia spiaggia che a dir il vero non sempre sono preparate, in questo momento stanno lavorando per sistemare le spiagge ma comunque uno solo lo può prendere anche sulla terrazza di casa. Allora sereno poco nuvoloso per la giornata di oggi dicevamo temperature in aumento per domani martedì 14, cielo sereno poco nuvoloso, temperature leggermente in diminuzione le condizioni di stabilità si protrarranno ancora anche nei prossimi giorni con alta probabilità anche nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 aprile. Allora andiamo a vedere subito i giornali, cominciamo dal giro di vite sulle emissioni, sulle polveri sottili giro di vite che riguarda i pizzaioli, le pizzerie, coloro che hanno il forno a legna forno a legna, filtri obbligatori oppure scatta la multa e dal 5 aprile scorso c'è l'obbligo per le pizzerie e per i ristoranti le sanzioni arrivano a 500 euro. Sono dei filtri che vanno messi, filtri antipolveri il primo ad acqua è obbligatorio dal 5 aprile e ha lo scopo di abbattere l'80% dei polveri sottili un secondo filtro elettrostatico sarà obbligatorio da marzo 2016 qualora il primo non si riveli sufficiente. Scattano i controlli, qualcuno dice ci si limita a colpirle le attività economiche chiudendo gli occhi su molte altre cose la multa per chi non si adegua va da 25 euro a 500 euro che è un'ammenda prevista dal regolamento comunale per la violazione delle ordinanze emesse dalla sindaco. Quasi nessun ristorante si è adeguato ma io qui colgo l'occasione per aggiungerci un'altra cosa di controllare anche quello che bruciano i ristoratori perché è successo, l'altro giorno c'è arrivata una segnalazione veritiera da una fonte certa che una persona ha trovato un chiodo dentro la pizza perché evidentemente bruciavano non solo legna ma anche bancali o quant'altro dove c'erano queste pinze abbastanza, questi chiodi finito nella bocca di una persona insomma bisognerebbe stare attenti per queste cose. Poi sotto invece il comune poteva far partire l'ordinanza nel prossimo autunno dicono quelli dei 5 Stelle che parlano di un provvedimento d'emergenza da cui si capisce che manca una politica ambientale seria sulla Fano Grosseto Patrizia Bartolucci ha intervistato il sindaco della città pesarese Matteo Ricci, traditi dalla regione, ha detto Ricci ora della questione mi occuperò io la prossima settimana chiederò un appuntamento a Del Rio che è il neoministro fin qui la vicenda è stata seguita ad Ancona ma ora sono anche disposto ad occupare di nuovo la guinza se può servire la questione sul maltempo e anche sul riconoscimento dello stato di emergenza devo capire se Ancona ha colpa sui ritardi o delle inadempienze spacca intanto, e qui il Carlino fa il punto sulle prossime elezioni spacca senza alleanza con Forza Italia rischia di arrivare quarto tutti i sondaggi danno ceriscioli oltre il 40% spero però che si candidi perché vogliamo batterlo alle urne Porto in secca, il problema si fa grave oggi incontro tra Comune e Capitaneria soluzioni rapide per evitare danni alle barche ricci, dregare l'area portuale e scaricare i fanghi in una cassa di colmata anche Pesaro ha il problema del porto Pesaro c'è anche la World Cup di ginnastica successo con 4.500 presenze alberghiere e 9 ore di diretta tv organizzeremo anche la tappa di Taiwan l'Adriatic Arena si candida per il mondiale centro storico, andiamo a Fano centro storico, niente diritti, solo doveri si lamentano gli automobilisti per la mancanza di parcheggi e le multe poi ancora sulla ferrovia, sul treno Fano Urbino, Sgarbi lo vuole perché non averlo è reato l'ondei dell'Ami non ci sono noi ci siamo, scusate, se i conti sono ok Gambini, patrimonio da salvare allora tra le tante fotografie dei vari personaggi politici e quant'altro ovviamente il più conosciuto senza dubbio è Vittorio Sgarbi ma vorrei soffermarvi e farvi vedere non so se l'avete riconosciuta questa fotografia è un fotomontaggio ovviamente ma per dire come potrebbe diventare questa tratta provate a immaginare qui siamo sulla strada questo è il canale Albani siamo a Fano ovviamente vedete il distributore sulla sinistra siamo a Fano ed è la strada che porta nel senso delle macchine vedete, nel direzione di marcia che porta alla rotatore di Sant'Orso che porta in superstrada che porta in autostrada ecco questo è quello che vorrebbero realizzare con questa sopraelevata dove passa questo treno per Urbino adesso lo sport perché ieri partitaccia bella, piena di emozioni lo vedrete questa sera chi seguirà l'integrale, la differita di Sergio Catalani una partita soprattutto nel primo tempo sei gol potevamo fare con il Fano ma una palla che non è voluta entrare fino all'ultimo minuto l'ultimo secondo corsa finita sul muro Fano non sfonda con il campo basso troppe occasioni sciupate Granata ha una porta nel primo tempo infatti poi i molisani allentano la pressione e neanche tanto perché hanno tenuto fino all'ultimo minuto fino all'ultimo istante nella fotografia vedete anche il portiere perché il portiere perché Conti che è stato indaffaratissimo ieri perché ha dovuto parare di tutto di più però a un certo punto ha ricevuto probabilmente una sgomitata qualcosa del genere alla Tempia e a un certo punto si è temuto per le sue condizioni eravamo già quasi alla fine della partita però come vedrete anche questa sera a un certo punto butta via il pallone perché non riusciva più a vedere in maniera nitida poi i sanitari sono entrati in campo alla fine della partita sono stati lì ancora una decina di minuti e l'hanno tenuto sotto osservazione per il resto cosa c'è da dire? C'è da dire Alessandrini l'allenatore del Fano solo elogi a chi dà il massimo abbiamo provato a vincere in tutti i modi ma la palla non ne voleva sapere di entrare avete visto? Gabellini la maceretese va alla grande ebbene noi proveremo a darle fastidio fino all'ultimo minuto e già perché la capolista maceratese ieri ha vinto 2 a 0 e quindi insomma continua la sua corsa verso la Lega Pro andiamo adesso a leggere il Corriere torneremo a vedere comunque il calcio lo sport in particolare il Fano sugli altri due quotidiani tra poco anche sul Corriere da Senigallia noi vigili insultati e minacciati inviata una lettera al sindaco ogni multa frasi ripetibili su Facebook poi da Pesaro prima schiarita calano i disoccupati questa è la notizia che volevamo sentire il tasso dei senza lavoro in provincia del 9,5% un punto in meno ma per i giovani resta l'emergenza tra 15 e 24 anni il dato sfiora il 40% preoccupante anche il numero dei cinquantenni sotto nel porto canale restano a Pesaro restano solo melma e pozzanghere è desolante l'immagine delle barche appoggiate sul fondale per la causa sospetti sul vallato oggi vertice urgente non ci sono i soldi per il dragaggio davvero guardate che effetto inquietante che effetto incredibile questa immagine del porto l'impressionante secca al porto di Pesaro causata dalla bassa marea ok sull'altra pagina del Corriere Adriatico da Fossombrone fine rinviata per aiutare i candidati i comitati in rete replicano al PD sull'ospedale il partito ha problemi di vista nonostante i lavori il laboratorio analisi resta inattivo il pomeriggio al via l'assistenza a casa di articolo 32 da Fano invece campionato di scacchi con 400 giocatori al Palagei per tre giorni grandi sfide Godena cinque volte campione italiano si è aggiudicato la tappa fanese centro pagina invece protezione civile base operativa al Codma Fano centro di riferimento nazionale formazione per 200 volontari su uno stato di emergenza svolte alcune lezioni teoriche e prove pratiche per esercitare le capacità di reazione in caso di allarme formati cinque gruppi per campo sfollati ponte radio unità di crisi cucina e segreteria operativa ripulita l'area floristica di Baia del Re volontari trovano polistirolo avanzi di rete plastiche rifiuti di ogni genere portati dal mare in scena i pettegolezzi che causano equivoci da stasera la compagnia dialettale il brudette che chiude la rassegna in vernacolo cianfrusaglia adesso la pagina sportiva del Corriere il Fano frena rimonta per ora finita non sfonda contro il Campobasso 0-0 il Mancini la vetta e i sogni di Gloria si allontanano Borrelli e quella rete mancata peccato dice lui potevamo farcela poi naturalmente le pagelle e sotto le parole di Alessandrini li abbiamo schiacciati nella loro area apriamo adesso il messaggero in apertura la politica Solazzi il PD ha paura dei sondaggi Renzi vuole impugnare la legge votata anche dai De Marche che viete il terzo mandato solo dal 2020 Vittoriano dice spacca non si ferma così Massi il Premier pensi ai soldi che ci deve per il maltempo a centro pagina ride di vandali ubriachi contro le auto a Lido di Fano gruppi di balordi in azione nella notte danneggiate numerose macchine in sosta esasperati residenti che denunciano anche diversi tentativi di furto di taglio basso il meteo arrivano giornate quasi estive ancora la fotografia del porto di Pesaro sul messaggero porto e foglia l'emergenza diventa doppia preoccupano la barra dei detriti alla foce del fiume e ripetersi del fenomeno della darsena in secca in programma una serie di incontri tra tecnici e capettineria e denti locali pizzeria esplode la guerra dei filtri i grillini contestano l'ordinanza di Ricci per adeguare i forni a legna interventi costosi e non risolutivi mentre la cronaca riferisce di un incidente dove è rimasto coinvolto un giovane pesarese ferito a San Marino si tratta di un 26enne macedone da tempo residente a Pesaro che è rimasto ferito nella prima serata di sabato in un incidente accaduto nel territorio della Repubblica di San Marino Fano Grosseto scontro sulla bocciatura per la senatrice Fabri l'esclusione dalle priorità del governo non comprometterà il progetto me l'hanno assicurato che si farà l'assessore regionale invece Giorgi dice di tutt'altro avviso anni di lavoro buttati via buttati all'aria perché Renzi questa Fano Grosseto non la vuole come avrete capito siamo in campagna elettorale e quindi il teatrino è tutte le volte lo stesso Aset per il caso Assunzioni vertice urgente di maggioranza chiudiamo con la pagina sportiva ovviamente questo è lo messaggero Bumbum D'Antoni questa è la maceratese la maceratese che allunga ha vinto 2-0 a Castelfidardo ma sotto c'è l'articolo del Fano il campo basso stoppa il Fano i Granata spingono ma non sfondano e vedono la vetta allontanarsi in maniera probabilmente probabilmente irrimediabile non paga dividendi il primo tempo all'assalto e nel secondo è il giovane portiere a negare la rete Alessandrini non fa drammi ai ragazzi solo complimenti ed è tutto grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa che torna domani questa sera occhio alla notizia e poi come abbiamo già detto l'integrale della partita Fano Campobasso buona giornata a tutti arrivederci a tutti